SONO IL DELISCO Quando Odisse che non ci sarebbe mai più tornato qui. Come mai? Nell'88 il figlio del sindaco venne rapito. Non scoprirono mai che cosa fosse successo a Ritchie. Quello è... papà? Il mio migliore amico è stato rapito sotto i miei occhi. Devo vedere il rapporto sul caso di Ritchie Fife. Chi può occuparsi di lei? Non me ne vado stavolta. Qui c'è tutto quello che posso farti vedere. Perché mi aiuta? Non piacciono neanche a me gli sguardi di sufficienza. Signorina, non sai in che vespaio ti stai infilando? Essere chiamata signorina dovrebbe essere un complimento. Ma difficilmente lo ha davvero. Che cosa hai fatto? Sono una giornalista! No, tu sei in quarta elementare! C'è un'intera città piena di persone che conoscono mio marito meglio di me. Io credo che tu debba sapere una cosa. E so che hai saltato la scuola per andare a interrogare un sospetto omicita. No. Cioè, sì, ma no. Siamo una famiglia, quindi metteremo le cose a posto insieme. Sì, furba. Preferisco essere coraggiosa. Facciamo entrambe le cose. Sì, furba.